per amministrare il negozio andare al link che ti ho appena dato ti troverai davanti a una maschera come questa dove devi inserire la tua mail qui e qui la password una volta inserito clicca su entra e ignora questo messaggio accesso vietato che praticamente va su parti di amministrazione di codici del negozio puoi andare direttamente a vedere il catalogo, gli ordini, i clienti e le statistiche andiamo su catalogo, su catalogo ha la lista di tutti i prodotti che sono stati caricati al momento del negozio quelli se tu ti sposti sulla destra con il simbolo rosso non sono stati ancora attivati quindi non si vedono nel negozio per i compratori mentre quelli con il simbolo verde sono attivi e comprabili qui dentro facendo modifica puoi andare a modificare questa tipo 100 la quantità in magazzino puoi andare a modificare sia la quantità in magazzino disponibile sia il prezzo perché al momento se la quantità di magazzino rimane a 100 e man mano che la gente compra questa quantità diminuisce man mano che vengono fatti degli acquisti quando arriva a 0 sul sito viene scritto che il prodotto non è più disponibile quindi eventualmente tu puoi andare a modificare qua dentro sia i prezzi sia la quantità cliccando per esempio su modifica adesso in questo caso la riga è molto lunga quindi non ci sta nella schermata ma sarebbe lampadina led da 5 watt questo è il codice, tu vedi tutto il riepilogo questo è il prezzo senza IVA e con IVA e questa è la quantità se tu ci clicchi sopra ti si apre questa schermata dove ti da un riepilogo del titolo eccetera per andare a modificare il prezzo è un po' da cercare qua c'è la scheda nel momento che sei dentro la lampadina quindi sei dentro modifica lampadina bulb led 5 watt vai sulla scheda prezzo e puoi andare a modificarlo ti conviene andare a modificare quello IVA ma è lo stesso perché lui automaticamente se modifichi quello IVA ti va a calcolare il costo senza IVA una volta che hai finito di modificare basta che clicca su salva e rimani e ti rimane sempre nella scheda della lampadina se invece vuoi uscire completamente dalle modifiche di questo prodotto fai solamente salva se vuoi modificare anche altre cose per esempio le quantità clicca salve e rimane per modificare la quantità devi andare sulla scheda quantità sempre controllando che sei sempre su questo prodotto qui e vai a inserire la quantità desiderata in questo box qua e una volta fatto se vuoi uscire da hai finito di modificare questo prodotto fai salva se devi modificare altre cose salva e rimane come con gli altri questa è la gestione dei prodotti quando vuoi disabilitare un prodotto ammettiamo adesso vi faccio salve torno alla schermata completa di tutti i prodotti mi ritorno qui e qui vedrai la lista tu vedi che ci sono 19 prodotti caricati di cui alcuni sono attivi e altri no se voglio attivarne uno posso andare da qui semplicemente a cliccare su questa x rossa lo attivo adesso in questo caso non farlo perché qua i prezzi non sono ancora stati inseriti e se voglio disattivare momentaneamente uno lo disattivo e lo posso riattivare successivamente quando voglio aspetivare aspetivare